Alla fine del corso si rilascerà un attestato, l'attestato viene firmato dal direttore dei corsi che sono io ed essendo un produttore e ave dell'Unione Europea, questo attestato attesta appunto che voi avete seguito un corso con delle tecniche, con degli approcci a livello europeo e certamente questo per chi conosce questo mondo, per il cliente o comunque per le persone che sanno che voi avete frequentato un corso così, certamente un elemento che darà forza alla vostra proposta. Allora ci diamo appuntamento al corso Web Reporter, vi aspetto motivati, decisi a voler realizzare qualcosa di bello, qualcosa che vi può realizzare anche dal punto di vista professionale e perché no anche artistico e dunque a presto. Grazie a tutti.